Salve merdoni, bentornati sul canale dell'impero del cinema è una giornata di merda, piove e mi gira i coglioni a morte fantastico, perché tutto ciò? perché mi girano i coglioni generalmente non quando rimango deluso da un prodotto audiovisivo che sia un film, che sia una serie tv ma quando quel prodotto audiovisivo, quella serie tv che ho amato, che ho seguito che ha mantenuto per le prime 5 stagioni, almeno per me un tasso qualitativo elevatissimo una qualità narrativa sempre coerente e increscendo un'imprevedibilità assoluta quasi e che poi, piano piano, nelle ultime due serie è scaduta nell'iperprevedibile per quanto gli eventi abbiano preso una scala di dimensioni infinitamente più ampia e più epica rimango poi, dopo aver perso un po' di piglio completamente devastato sconvolto nel senso migliore del termine dal secondo episodio dell'ottava stagione Game of Thrones era dalla quinta stagione dal processo di Tyrion è dal processo di Tyrion che io non provo queste sensazioni guardando una puntata di Game of Thrones e perché mi girano i coglioni se questa per me, lo dico con tutta la presunzione del mondo sicuramente sto esagerando ma in realtà non credo potrei anche argomentare questa cosa la seconda dell'ottava stagione di Game of Thrones per me è la miglior puntata di sempre la più emozionante la meglio scritta la meglio recitata la meglio montata la meglio concepita è qualcosa di veramente assurdo la sensazione che ho provato guardandola è stato qualcosa di veramente di veramente, non lo so, devastante durante la giornata avevo letto dei commenti senza spoiler ovviamente di persone che l'avevano già vista alle 3 di notte e che parlavano proprio di un mezzo miracolo di scrittura di sceneggiatura e con dei miei amici durante la giornata dicendoci questa cosa abbiamo provato un po' a speculare e quello che pensavamo tutti più o meno era che puzzasse di morte era che fosse una puntata che ci avrebbe privato di qualcuno di estremamente importante perché questa era l'impostazione sulla quale prevedevo il mio sconvolgimento emotivo nella continuazione della storia no tutt'altro tutt'altro 58 minuti di dialoghi di cui nessuno nessuno inutile che chiude tutti i cerchi narrativi che dà una fine dignitosa a tutte le storyline o quasi tutte perlomeno le più importanti che mette in gioco nuovi elementi per le restanti puntate che ti esplica il vero obiettivo del re della notte fino ad adesso completamente completamente ignoto alias l'oblio totale la cancellazione della sua memoria che sta in Bran e del suo rimasuglio di umanità in favore dell'oblio del reset di tutto il mondo un po' semplice però molto suggestivo perché è legato alla memoria perché insomma l'obiettivo del re della notte è che vuole dimenticare non so da dove iniziare a parlare dei mille momenti che mi hanno veramente fatto venire brividi lacrime ho pianto due volte non proprio pianto ho lacrimato pesante in un paio di punti uno non me l'aspettavo minimamente perché vede coinvolto uno dei personaggi che mi sono sempre piaciuti meno alias Theon Greyjoy è stato un momento nel momento in cui si offre di combattere per grande inverno davanti a Sansa e gli chiede il permesso e Sansa si contorce in una smorfia di commozione non so come mai ma proprio mi è uscito mi è uscito ornò dalla gola e sono quasi scoppiato a piangere il secondo momento ovviamente è stata l'elezione a cavaliere di Brienne con quel sorriso finale della scena che è assolutamente la cosa più appagante di tutta la puntata ma non sto contando tantissimi momenti l'intimità tra Sansa e Daenerys l'intimità tra Jaime e Tyrion l'intimità anzi non l'intimità il confronto processuale tra Jaime Sansa Daenerys e anche Tyrion che comunque viene messo in dubbio tutti gli archi narrativi vengono fatti coincidere in un climax di morte di paura di tensione di attesa spasmodica di crampi allo stomaco con una maestria di sceneggiatura che mi ha lasciato basito l'epica l'epica vera quella che non deriva dal ma deriva dai rapporti umani l'epica come è sempre stata l'epica di Kurosawa l'epica di qualunque peplum degno il nucleo portante di Ben-Hur sono i rapporti umani il nucleo portante del gladiatore sono i rapporti umani il nucleo portante di tutto Kurosawa sono i rapporti umani i rapporti di famiglia i rapporti di amicizia ma qualunque tipo di amicizia è bellissimo anche come è stata data una chiusa il rapporto tra il mastino e Aria non è forzato è coerente con loro è bellissimo che Aria abbia deciso di concedersi molta più tenerezza in queste due puntate di quanto abbia mai fatto dalla seconda stagione in poi in cui è stata un caterpillar assassino è bellissimo che si sia concessa una notte di sesso con come si chiama oddio insomma col bastardo di Baratio non mi sono scordato un attimo il nome il momento di intimità tra Davos Brienne Jaime Tyrion Tormund tutti lì al camino che cercano quel focolare di pace di tranquillità quel focolare di speranza quel focolare di buon umore quel focolare di compagnia è stata una cosa bellissima e coraggiosissima secondo me da parte dell'HBO da parte degli autori perché il rischio purtroppo e in qualche caso ahimè si è verificato è che gli spettatori più superficiali mi dispiace dirlo perché sono spettatori che amano la serie sono spettatori fissati con la serie ma ahimè secondo me peccano di fanneggiamento e si creano delle aspettative che vanno ben oltre probabilmente la mira precedente premeditata della serie e rimangono delusi dal fatto che non è successo niente ma come non è successo niente è successo tutto nel niente tutto tutto quello che doveva succedere aspettavate cosa che si picchiassero alla seconda puntata e andassero avanti così senza dare un finale alle storie mandandoli alla morte senza una chiusa epica senza la canzone di Poldrick ma state scherzando la canzone di Poldrick è un momento poetico è un momento epico che mi ha ricordato sotto certi aspetti anche la canzone di Pipino nel Signore degli Anelli ci vogliono questi momenti nell'epica ci vogliono questi momenti nell'epica scusate se ho un tono aggressivo in realtà sono tranquillissimo però mi voglio sfogare perché è difficile per me accettare l'idea di aver quasi allora vi confesso questa cosa io la sesta e la settima stagione non è che non le ho apprezzate le ho apprezzate molto ma tra buchi narrativi abominevoli per quanto riguarda le distanze percorse però vabbè l'abbiamo più o meno accettato tutti questa cosa però alla fine c'è è una cosa che nella serie fino a quel momento non c'era stata e quello la prevedibilità quando Dito Corto arriva con rinforzo alla battaglia come rinforzo alla battaglia dei Bastardi e poi dopo fa quel discorso a Sanza dove gli svela i suoi piani dove dice io voglio arrivare al trono di spade con te bla 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 ho guardato l'amico accanto a me gli ho detto gli do due puntate massimo a Dito Corto due puntate massimo Borda morto Dito Corto cinque minuti prima che Dito Corto arrivasse alla battaglia dei Bastardi tra due minuti arriva Dito Corto Borda tutto completamente prevedibilissimo epico emozionante bello ma prevedibilissimo quindi senza il piglio del morso allo stomaco quello vero quello che ho sempre provato in Game of Thrones dalla prima alla quinta stagione che per me è stato probabilmente l'apice della serie ho sempre detto ai miei amici che se l'ottava non mi sconvolgeva se non sul piano narrativo per lo meno sul piano emozionale doveva darmi qualcosa in più se non lo faceva questo già da prima di vedere la prima puntata io a prescindere avrei bocciato anche la sesta e la settima perché accetto due stagioni di raccordo banalotte epiche belle stupende ma banalotte se l'ultima mi da un cazzotto in bocca un cazzotto nella bocca dello stomaco e una coltellata su fianchi e mi lascia completamente steso così allora passo la sesta passo la settima e salvo tutta la serie ora non dico che la seconda puntata dell'ottava stagione abbia il potere di salvare tutto quello che verrà da ora in poi perché ovviamente non è così non è così che funziona non è così che si ragiona ma la parola d'ordine in questa puntata per me è stata accuratezza accuratezza di sceneggiatura accuratezza di tempistiche accuratezza nel trattare i rapporti umani dei personaggi chi si lamenta che non mi hanno spiegato delle cose importanti per farmi vedere Tormund che baccaglia Brienne non è per fatti vedere quello la scena non è basata su Tormund che ti racconta le cose la scena è basata su ognuno di loro su ognuno di loro poi Tormund è predominante a quel carattere esuberante e esce fuori ovviamente quanto cazzo ho riso sulla scena sul racconto sul latte di gigante quanto cazzo ho riso ma ho riso ho pianto ho sentito la morsa allo stomaco e mi rifiuto di credere che questo tipo di accuratezza si limiti a questa puntata mi dà proprio fiducia che da ora in poi ci sia questo tipo di accuratezza le tempistiche vengano rispettate chi si lamenta che manca poco mancano soltanto quattro puntate e poi è finito non c'è tempo di spiegare dalla prossima in poi durano tutte un'ora e venti quindi calma c'è tutto il tempo del mondo c'è il tempo c'è più tempo più tempo per quasi la trilogia del signore degli anelli c'è quasi più tempo quindi per favore riguardatela se non l'avete apprezzata perché eravate lì con la smania di vedere la gente che si massacrava di vedere personaggi che muoiono come mosche allora probabilmente voi l'epica non sapete neanche dove sta di casa allora probabilmente siete non lo so non lo so vedete una serie non per quello che trasmette ma per quello che appare è una cosa che mi fa imbestialire quando una puntata come questa e da una parte lo capisco da una parte lo capisco che lo spettatore non lo so un po' generalista possa vederla una puntata inutile ma non lo è è l'unica puntata che riguarderò a distanza di anni è bellissima è veramente qualcosa di bellissimo e per me la migliore di sempre perché valorizza in 58 minuti ho 7 stagioni le valorizza tutte gioca sulla nostalgia gioca sui rimandi sulle battute ogni singola battuta il brivido che mi è preso quando Bran guarda Jamie e gli dice queste cose si fanno per amore dai via ragazzi ragazzi io probabilmente sbaglio io faccio un mea culpa faccio un mea culpa qui se vi sono sembrato arrogante se vi sono sembrato presuntuoso faccio mea culpa è vero lo sono in questo momento lo sono e lo appaio ma mi sento col cuore di difendere una puntata anomala coraggiosissima e necessaria prima del botto da ora in poi per me possono picchiarsi dall'inizio alla fine mi basta e fortunatamente non sarà così non sarà così non saranno quattro puntate di schiocchi saranno probabilmente tre puntate di schiocchi e l'ultima puntata di chiusura totale se c'era una cosa che non avrei mai detto è che mi sarei messo a fare un video sul canale difendendo Game of Thrones strano questa cosa non l'avrei mai detta assolutamente mai detta ciao ragazzi